Buonasera, buonasera anche dal TGN. Lo scambio avrebbe avuto nei cablaggi i poli invertiti. È un'ipotesi su cui stanno lavorando tecnici e investigatori nell'ambito del deragliamento del Frecciarossa 1000 a ospedaletto Lodigiano, che è un incidente che aveva provocato due morti e 31 feriti lo scorso 6 di febbraio. La società Alstom, che è la produttrice dello scambio, ha fatto sapere che l'installazione e la manutenzione degli scambi viene effettuata dal cliente finale. Ci racconta tutto Alberto Carreras. A ospedaletto Lodigiano si lavora per togliere dai binari anche la terza carrozza dopo le prime due già sollevate e spostate. Continua l'attività dei tecnici per la rimozione del Frecciarossa 1000, deragliato il 6 febbraio scorso. Ci vorrà ancora una settimana per spostare tutti i convogli. Intanto resta sequestrato lo scambio che sembra l'origine di tutto il deragliamento. Dopo controlli effettuati sarebbe emerso che i poli erano invertiti. In questo modo le indicazioni erano falsate. Si sta attenuando la posizione dei 5 operai che per la manutenzione erano intervenuti su questo scambio la notte prima dell'incidente che ha causato due morti e 31 feriti. Indagati anche la società Rete Ferroviarie Italiane, l'amministratore delegato di Alstom, produttrice dello scambio. Non è escluso che possano essere indagati altri dirigenti di questa azienda. L'installazione e la manutenzione degli scambi viene effettuata dal cliente finale. È quanto spiega in una nota la società Alstom che precisa che l'attuatore in oggetto fa parte di un lotto che è stato soggetto a un accurato processo di controllo di fabbricazione e di qualità approvato da Rete Ferroviarie Italiane e opportunamente seguito e documentato. Ogni prodotto Alstom è il frutto di un lavoro in ricerca e in sviluppo, viene detto nella nota, dell'utilizzo di tecnologie produttive avanzate e di scrupolosi processi di controllo certificati sottoposti alla validazione dei committenti. Un ordigno bellico è stato trovato nel letto del fiume Seveso a Paderno Dugnano. Oggi pomeriggio l'ordigno si trova all'altezza di via Camposanto, non lontano dalla linea ferroviaria ed è stato scoperto da alcuni operai che da alcune settimane stanno pulendo gli argini del corso d'acqua. Sul posto sono al lavoro sia i carabinieri della compagnia di stesso San Giovanni sia gli agenti della polizia locale che hanno chiuso al traffico ovviamente la zona proprio per far lavorare gli artificieri. Sono stati arrestati dalla squadra mobile della questura di Milano due spacciatori e sequestrati anche oltre 100 chili di asci. Si tratta di due uomini di 42 e 48 anni. L'episodio è accaduto venerdì ma è stato divulgato oggi. Gli investigatori hanno monitorato due vetture che dalla zona gallaratese sono giunte nel quartiere Lorenteggio. Una volta scesi i conducenti sono entrati in uno stabile dal quale sono usciti poco dopo con dei borsoni da caricare nelle vetture. fermati e controllati dai poliziotti due sono risultati in possesso di 107 kg di hashish, 11,8 di marijuana, 785 grammi di cocaina e una pistola calibro 9. Sono due cugini entrambi con precedenti per droga. In manette Pasquale D'Amato che aveva da pochi mesi finito di scontare una sorveglianza speciale e suo cugino Cosimo Storino finito nel 2017 in una indagine per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il caso Tribunale dei Brevetti approda in Consiglio Comunale. Infatti il capogruppo della Lega Alessandro Morelli ha annunciato che presenterà questa sera una mozione urgente per chiedere alla Giunta guidata dal Sindaco Sala di fare tutto il possibile per portare a Milano il Tribunale Comunitario che dovrà traslocare da Londra per effetto della Brexit. La mozione è motivata dal fatto che nelle ultime settimane alcune voci sostengono che il governo Conte si sia orientato a candidare Torino e non Milano come sede italiana appunto del Tribunale Unificato dei Brevetti. Ricordiamo che Milano, candidata come sede dell'Agenzia Europea del Farmaco, venne sconfitta da Amsterdam con una scelta di pura fortuna determinata dal ricorso all'estrazione casuale. Giornata di assemblee e presidi per i dipendenti di Air Italy, società messa in liquidazione dagli azionisti. 1.450 persone rischiano il posto di lavoro e tra queste ce n'è un migliaio a Malpensa. I 1.450 lavoratori di Air Italy, la compagnia messa in liquidazione dagli azionisti, hanno fatto sentire la loro voce nel corso di assemblee che si sono svolte a Malpensa e a Olbia. Le organizzazioni sindacali di CGL, Cisle e Will hanno chiesto ai soci di trovare una soluzione che consenta alla compagnia di poter proseguire l'attività. L'assemblea dei lavoratori si è svolta oggi in contemporanea a Malpensa e a Olbia. Stamani invece i lavoratori hanno partecipato nei due aeroporti a presidi nei pressi dell'area dei check-in di Air Italy e di Qatar Airways. A rischio, dicevamo, ci sono 1.450 dipendenti, di cui oltre 1.000 nella sola Malpensa, per i quali è scattata la procedura di licenziamento. La Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ha chiesto ai liquidatori Franco Maurizio Lagro ed Enrico Laghi di cambiare la procedura, perché appunto la liquidazione danneggia pesantemente i lavoratori e la possibilità di garantire il trasporto aereo sulla Sardegna. La Ministra ha anche convocato per il 20 febbraio i sindacati, la Regione Sardegna e la Regione Lombardia, mentre sono ancora in fase di preparazione gli incontri con la proprietà. All'appuntamento del 20 faranno sentire la propria voce anche i lavoratori di tutto il settore, con un presidio davanti al Ministero dei Trasporti per denunciare l'emergenza che sta colpendo, oltre ad Air Italy, altre compagnie aeree del nostro paese. La Digos di Milano ha denunciato 31 persone per un rave illegale organizzato sabato notte in una struttura abbandonata nella periferia ovest di Milano, in via Kulischoff. Gli investigatori sono intervenuti alle 8 di ieri mattina, l'evento era iniziato alle 22 della sera prima, nel semi-interrato di una ditta di prodotti chimici ormai chiusa da tempo. Oltre alla denuncia per invasione di terreni ed edifici, sono stati sequestrati a carico di gnoti 17 pasticche di ecstasy e 15 francobolli con acido. La Questura ha sottolineato l'efficacia dell'attività di prevenzione affidata in termini dissuasivi al sequestro del materiale audio come amplificatori, mixer, strumenti, furgoni, un danno di rilievo per chi organizza attività commerciale su queste kermesse. Nel corso dell'intervento, oltre ai denunciati, sono stati anche identificati tutti i presenti, grazie al supporto della Polizia Scientifica e agli agenti del terzo reparto mobile. 400 mila euro su conti esteri riconducibili a Luca Risso, ex compagno di Rubi. Soldi che dovevano giungere a Playa del Carmen in Messico. E' uno degli elementi emersi oggi nel corso dell'udienza Rubiter. Su conti all'estero, tra Lugano e Francoforte, riconducibili a Luca Risso, l'ex compagno di Rubi, sarebbero transitrati tra il 2013 e 2014 oltre 400 mila euro, di cui 300 mila sarebbero dovuti arrivare a una filiale di una banca a Playa del Carmen in Messico. Così un'investigatrice di Polizia Giudiziaria, testimoniando in aula nel processo milanese Rubiter, a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati, ha riassunto l'esito di alcune rogatorie effettuate nelle indagini, i cui contenuti erano già emersi nei mesi scorsi. Nel corso della sua deposizione, la testimonia di Polizia Giudiziaria ha parlato di molti altri dettagli dell'inchiesta, già emersi come ad esempio un messaggio, rintracciato nei telefoni sequestrati, nel quale Risso diceva «Mia figlia deve crescere bene, non con una che sa solo spendere soldi». L'ufficiale di Polizia Giudiziaria ha parlato di due bonifici, da 25 mila e 20 mila euro, partiti da Genova e arrivati su un conto di Francoforte, riconducibile a Risso, e di altri due bonifici verso la Germania, partiti da un conto svizzero aperto nel marzo 2011, dell'ex compagno di Karima, uno da 300 mila euro, l'altro da 60 mila euro. Poco prima l'investigatrice aveva anche ricostruito viaggi tra il Messico e Dubai di Rubi, Risso e dei familiari di quest'ultimo. Secondo le indagini del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e del PM Luca Gaglio, infatti parte dei milioni di euro intascati dalla marocchina per stare zitta sarebbe servita per l'acquisto di un ristorante con annesso pastificio e di due edifici con mini alloggi per operatori del settore turistico a Playa de Carmen in Messico. Cambiamo argomento, da domani al 24 di febbraio il capoluogo Lombardo si trasformerà in una grande passerella di alta moda per ospitare la Milano Fashion Week 2020. Tra gli appuntamenti mondiali più importanti del settore le immagini che vedete sono relative a quella, la manifestazione dell'anno scorso. Le più celebri case di moda mostreranno le nuove collezioni tra sfilate ed eventi super glam. Una settimana che molti aspettano con ansia già da diversi mesi prima, cercando in rete qualche piccola anticipazione sugli abiti o indiscrezione sugli stilisti. Questa edizione ovviamente sarà ridimensionata dall'emergenza coronavirus. Come noto infatti non arriveranno giornalisti compratori e operatori dalla Cina, almeno un migliaio di persone. Il presidente della Camera della Moda, Carlo Capasa, ha detto di prevedere per la prima volta un primo trimestre dell'anno con un negativo tra l'1,5% e l'1,8%. Gara record in Galleria a Milano. Dior infatti prende lo spazio Versace per 5 milioni l'anno e Fendi va al posto di Armani per 2,5 milioni. La Maison Fendi l'ha spuntata dopo 38 rialzi, pagando oltre 5 volte la base d'asta e probabilmente l'affitto più alto in rapporto ai metri quadrati pagato nel salotto di Milano. La competizione tra i grandi marchi, da Tozza a Bottega Veneta, da Prada a Hermès, è a spuntarla per le vetrine degli Armani che si sposta in quelle storiche di team dopo più di un'ora e 28 rilanci e Fendi che porta a casa il risultato offrendo 2,450 milioni, quasi tre volte la base d'asta di 872 mila euro. Un'intera azienda con lavoratori in nero, senza contratti e senza assicurazione è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Como. Cinque operai lavoravano completamente in nero, senza contratto di lavoro. Li ha scoperti la Guardia di Finanza di Como attraverso i militari della compagnia di menaggio, il tutto nell'ambito di un controllo finalizzato ad accertare il regolare assolvimento degli obblighi in materia di lavoro. È stata rilevata la presenza dei cinque operai, tutti sprovvisti di contratto di lavoro e di qualsiasi copertura assicurativa e previdenziale. L'identificazione è avvenuta mentre tutti stavano lavorando per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione edile in un comune in Valle d'Intelvi, nella provincia di Como. I cinque lavoratori lavoravano per un'impresa che era gestita da un cittadino bulgaro. Dalle indagini e relativamente agli accertamenti effettuati dagli uomini delle fiamme gialle è risultato che tutti i lavoratori dell'azienda prestavano la propria attività lavorativa completamente in nero. Al termine dei controlli le fiamme gialle hanno diffidato il titolare dell'impresa a regolarizzare le posizioni contratuali dei dipendenti contestando violazioni per un importo di 1800 euro per ogni singolo dipendente. Il tutto è stato segnalato all'Ispettorato territoriale del lavoro che ha inflitto al datore di lavoro un'ulteriore sanzione amministrativa pari a 2000 euro sospesa l'attività commerciale. La compagnia di menaggio impegnata anche nel contrasto del lavoro sommerso ha già individuato 11 lavoratori irregolari in nero operanti prevalentemente nel settore delle edilizie e del giardinaggio. Cambiando decisamente argomento oggi è la festa nazionale del gatto e sono oltre 7 milioni nemici domestici nel nostro paese. Nata nel 1990 la festa accade in questo mese proprio perché è febbraio secondo una vecchia tradizione il mese dei gatti e delle streghe e perché il 17 quel giorno comunemente associato alla sventura. Già gli antichi egizi lo veneravano la dea Bastet aveva il corpo da donna e il viso da gatto. Molte sono state le mummie di gatti trovate nelle tombe. A Pompei alcuni mosaici testimoniano la loro presenza anche nella società romana. Nel rinascimento fu riabilitato anche per il suo ruolo attivo nella vita dei villaggi, il gatto visto che doveva cacciare i topi e secondo una ricerca del 2019 gli italiani sono i primi in Europa per il numero di animali domestici che sono presenti nel 52 per cento delle case con 53,1 animali da compagnia ogni 100 abitanti. In particolare noi in Italia ci sono quasi 13 milioni di uccelli, 7 milioni e mezzo di gatti e poi 7 milioni di cani. Cambiamo ancora argomento, Milano si tinge di arcobaleno, anzi è il municipio 8 perché da marzo a dicembre 10 panchine del municipio 8 saranno dipinte coi colori della bandiera arcobaleno in sostegno della comunità LGBT a tutte le vittime di violenza in regione del loro orientamento sessuale e del loro genere. Le panchine sono in piazza Giulio Cesare, via Collecchio, piazza scolare, via Fichera, via Ippodromo, angolo via Trenno, giardini via Altolentino, piazza Gerusalemme, parco Testori, parco Lessone, piazza Damiano Chiesa. Lo ha deciso la giunta del municipio su proposta della vicepresidente e assessore alla cultura Giulia Pelucchi. Ultiamo ancora pagina, presso la fondazione Ambrosianeum si è svolto il convegno del titolo Parola alla Chiesa, Parola alla Città dedicato al Cardinal Martini. L'assise affollatissima è stata aperta dall'arcivescovo Delpini che ha ricordato la necessità di difendere una parola spesso svilita e umiliata. Sentiamo Anna Maria Braccini. La parola è la coscienza, l'Europa è Milano, il passato, il presente e soprattutto i sogni per un futuro da vivere con speranza progettuale. Il Cardinale Carlo Maria Martini è quanto seppe profeticamente dire e indicare alla sua diocesi e alla Chiesa intera. C'è tutto questo nell'affollatissima mattinata di studi che la fondazione Ambrosianeum, l'Arcidiocesi e la fondazione intitolata al Cardinale dedicano appunto a Martini in occasione del quarantesimo anniversario del suo ingresso solenne a Milano. Presso la sede di Ambrosianeum il parterre di Uroa dei relatori tra cui l'arcivescovo rende appieno il senso dell'importanza dell'incontro. Sono convinto che Martini sia qui oggi ma sia qui sempre perché ha lasciato una tale traccia in questa città, in questo paese e in questa chiesa. Abitiamo nella comunione dei Santi e quindi non stiamo ricordando qualche frammento della memoria, sottolinea il vescovo Mario. Credo che noi stiamo celebrando non tanto un anniversario, quindi un'occasione per rievocare il passato ma questa dinamica di comunione. Dell'incontro vivo tra coscienza e parola come eredità preziosa parla Monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo Nino Vara e vicepresidente della conferenza episcopale italiana. Terreno senza parola diventa steppa arida e torre di Babele. Queste sono le due immagini molto belle che indicano che lui ha saputo far circolare la linfa vitale tra parola e coscienza. Appassionato l'intervento di Enrico Letta, già presidente del Consiglio. Tutta l'attività pastorale del Cardinale è stata fondamentale anche per tanti di noi che venivano da fuori ed erano attratti da Milano. Venivamo a Milano per seguire le attività giovanili che si svolgevano e credo che questo sia forse il simbolo più bello di quell'attività profetica. Prima di chiudere purtroppo lo smog, concentrazione di PM10 sopra la sogna di guardia nel weekend. Le centraline Arpa infatti hanno rilevato valori sopra i 50 microgrammi per metro cubo sia sabato sia domenica. In particolare registrati 79 in via Le Marche, 72 a Cittastudi, 64 in via Senato, 72 al Verziere e 84 nell'area metropolitana di Pioltello. Oggi è piovuto quindi si spera che le condizioni migliorino ma vediamo tra poco le previsioni del tempo di Trebi Meteo che ci diranno qualcosa più nel dettaglio. Poi a seguire ci sarà Nova Stadio Tg con Paolo Pirovano e poi grande serata di calcio per Milan-Torino. Ovviamente c'è Nova Stadio, Luciano Rindone e tutti i suoi ospiti per seguire attimo per attimo l'incontro appunto Milan-Torino. Arrivederci.